I carabinieri al termine di lunghi interrogatori proseguiti per tutta la notte nella caserma di Corigliano Calabro a Cosenza hanno fermato per omicidio e distorsione un giovane cittadino romeno residente a Cassano allo Ionio. E' accusato di aver colpito con una sbarra di ferro e ucciso padre Lazzaro Longobardi, il sacerdote trovato in una pozza di sangue a Sibari nel cortile della Canonica. Il fatto è accaduto secondo i rilievi nella sera del 2 marzo. Siamo senza parole, era un santo, aiutava tutti, non meritava di fare una fine così. La gente di Sibari non si dà pace per l'efferato omicidio di padre Lazzaro, il 69enne parroco della contrada rurale Lattughelle di Cassano allo Ionio nel Cosentino. Ucciso a sprangate fuori dalla casa canonica di Sibari in cui era rimasto a vivere anche dopo il trasferimento in campagna. Il corpo è stato rinvenuto ieri mattina alle 7.20 dalla signora che si occupava delle pulizie. Padre Lazzaro era originario di Gragnano, nel Napoletano, ma da 27 anni si era trasferito a Sibari. Dopo la licenza in teologia aveva ricevuto l'ordinazione sacerdotale nel 1971, appartenente alla congregazione del Santissimo Redentore. Nel 1980 aveva conseguito la laurea in lingua e letteratura straniera. In base a quanto trapelato dagli ambienti diocesani, in passato era stato prestato da frequenti richieste di denaro che pare fossero accompagnate da minacce, qualora non avesse pagato, di accuse infamanti. Padre Lazzaro aveva raccontato il pericolo al vescovo della diocesi di Castano all'Oionio, Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale ad Interim della CEI, che l'aveva invitato a denunciare subito tutto ai carabinieri al Consiglio Pastorale, ovviamente non cedendo alle intimidazioni. Il religioso si era rivolto ai militari, cui aveva segnalato anche un furto nella casa parrocchiale. Il caso è seguito fin da subito dal vescovo Galantino, che si è recato anche in caserma e ieri ha ufficiato una messa inizialmente prevista alla Tughelle, nella parrocchia di Padre Lazzaro, ma poi celebrata a Sibari, in una chiesa più grande, per permettere la massiccia partecipazione popolare che era prevista e che in effetti si è registrata. A Sibari tutti conoscevano Padre Lazzaro, ne apprezzavano l'impegno pastorale che lo portava anche e soprattutto a non lesinare aiuto ai numerosi immigrati presenti nella Sibaritide, dove giungono con la speranza di un lavoro in agricoltura, ma spesso sono sfruttati e mal pagati da caporali senza scrupoli e di frequente finiscono arrolati dalla criminalità organizzata. Ha dato la vita per quei poveri per i quali si era sempre speso con le sue energie. Di recente mi aveva confidato la volontà di accettare l'invito di una delle tante famiglie d'extracomunitari che aveva aiutato, che lo avrebbero voluto con sé a Trieste, dove grazie a lui avevano ritrovato la speranza. Non ne ha avuto il tempo. Dolore e amarezza emergono dalle parole di Monsignor Nunzio Galantino. Nei giorni scorsi, ha ricordato Monsignore in una nota dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, mi aveva messo al corrente dei timori che in lui avevano ingenerato continue e pressanti richieste di aiuto in denaro. Le avevo suggerito di parlarne anche con Carabiniere e col Consiglio Parrocchiale, mi risulta lo abbia fatto, anche se formalmente non ha sporto querela, perché si diceva certo che col dialogo ogni difficoltà sarebbe stata superata. Il presso le ha dato voce al sentimento del popolo diocesano, ma anche dell'intera comunità di Sibari. Padre Lazaro, ha aggiunto Monsignor Galantino, ha sempre dato tutto se stesso per il prossimo. Mancherà Sibari a tutta la diocesi e a quanti lo hanno conosciuto e li hanno voluto bene. Durante l'omelia, il vescovo Galantino ha ricordato a lungo la figura del sacerdote barbaramente ucciso, facendone anche un simbolo dell'impegno verso gli altri, delle buone azioni e degli esempi positivi che non mancano in questo angolo di Calabria.